A giugno, secondo i dati della Banca d'Italia, i prestiti al settore privato sono diminuiti dell'1,7% rispetto allo stesso mese del 2022. In particolare i prestiti alle famiglie sono aumentati dello 0,2%, mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti del 3,2%. Per quanto riguarda i depositi del settore privato, sono diminuiti del 4,3% sui 12 mesi. A giugno, sempre secondo Banca d'Italia, i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie si sono collocati al 4,65%, in leggera salita rispetto al dato registrato a maggio. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati di poco superiori al 5%, in lieve crescita nel confronto con il mese precedente.